Vediamo invece la prima pagina della Nazione di Firenze, si parla del mostro, un'altra verità su Scopeti, un esperimento con gli entomologi alla piazzola dell'ultimo delitto, smentisce il racconto di Lotti, i francesi non vennero ucciso la domenica ma prima, ripetuto un esperimento già fatto, ne parlò Paolo Cochi alcuni anni fa sostanzialmente sulle larve da decomposizione dei cadaveri, che in realtà sarebbero state troppo sviluppate per non uccidere la domenica, come aveva raccontato Lotti, quindi ergo Lotti ha mentito, ergo, dicono i legali del nipote, di Vanni, serve una revisione del processo, ma a centro pagina sulla Nazione si parla della caccia ai garage, nelle zone più a rischio e boom di richieste dopo la raffica di spaccate sulle auto in sosta, la rabbia dei cittadini tra spese alle stelle e voglia di sicurezza mi hanno rotto il vetro sette volte, quindi la raffica di spaccate, la sosta in strada ora è un azzardo, la corsa ai garage volano i prezzi tra San Jacopino e Piazza Vittorio Veneto, una ventina di macchine prese di mira nell'ultima settimana, i box alle stelle fino a 6.500 euro al metro quadrato sul mercato, richieste boom nelle zone più a rischio, sono i dati di FIMA, la federazione dei mediatori, degli agenti immobiliari di Confcommercio, secondo cui la zona di San Jacopino e quella di Piazza Vittorio Veneto nell'ultimo anno sono quelle che hanno registrato un maggior numero di richieste di garage, proprio qui sono state danneggiate 19 auto negli ultimi otto giorni e quindi la domanda è cresciuta del 7% in entrambe le zone, San Jacopino e Piazza Vittorio Veneto, il valore al metro quadro di un garage si attesta tra i 2.800 e 3.200 euro, 6% in più rispetto allo scorso anno, quindi questa è l'associazione che la nazione scopre, la correlazione tra l'aumento dei prezzi e il fatto di essere particolarmente nell'occhio del ciclone sul fronte delle spaccate, non so se anche qualcuno di voi ha pensato, ha provato, ha valutato l'acquisto di un garage proprio perché magari vuol mettere al sicuro l'auto e con l'occasione anche avere il parcheggio assicurato, 3925 727775 raccontatecelo, intanto sentiamo da Toscana TV le parole di Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Toscana che dice che le imprese devono poter operare in sicurezza. Che chiunque ha costruito qualsiasi attività che ha operato e opera in quell'area lo ha fatto dietro autorizzazioni con destinazioni d'uso e quindi chi amministra e chi gestisce deve mettere nelle condizioni i propri cittadini e le imprese di poter operare in sicurezza e se questa non c'è occorre correre, darsi da fare perché le chiacchie le porta via il vento. Strini di auto in sosta e buttando a terra degli scooter in tutto, il tutto condito da urla e schiamazzi dalle 2 fino alle 5 del mattino, questo racconta il Tirreno. Tra poco invece dopo la pubblicità ci occuperemo di un altro caso, un'altra situazione, stavolta nel Mirino ci sono nuovamente dei negozi, la zona è un po' diversa da quelle che abbiamo raccontato ultimamente, non siamo in San Jacopino, stavolta non siamo nel centro di Firenze ma siamo a pochi passi dalla radio, qui dietro in via Pacinotti, via Pacinotti, incrocio con Viale dei Mille dove ci sono stati diversi colpi negli ultimi giorni, 4 nell'arco di una settimana. Vi racconteremo tra poco, voi continuate a dirci qual è la notizia del giorno al 3925 727775, intanto mi scrive un ascoltatore, buongiorno Pini, io abito vicino a San Jacopino, ho in affitto un posto autocoperto e di recente cercavo un garage, sempre in affitto, mi hanno chiesto anche 250 euro al mese, una follia, questo mi scrive il Bubu, ecco quindi in questo caso non l'acquisto ma un affitto di un posto auto, 250 euro al mese, beh insomma sono cifre che danno l'idea, ci fermiamo qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco. Grazie 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 Buongiorno Francesco Buongiorno Francesco Buongiorno Francesco Buongiorno a tutti gli ascoltatori Partiamo dalla cronaca, dalla scia di colpi, che cosa è successo, da quando è cominciata questa scia? Allora la scia è cominciata la settimana scorsa dove dei loschi figuri sono entrati in una pasticceria in Viale dei Mille, scardinando completamente una porta, tra l'altro nuova perché la pasticceria ha aperto circa un mese e mezzo fa, ma due mesi fa. Ci sono le telecamere di sorveglianza che fanno vedere chiaramente chi è che ha fatto questa cosa, non contento questa persona perché sembra essere la stessa, sabato la notte e mezzo fa, ma due mesi fa, ma due mesi fa, ma due mesi fa.